La sfida di Coppa Italia contro l'Akragas è già archiviata perché il Lecce deve volgere lo sguardo al campionato dove c'è il richiamo di una sfida d'alta quota, quella contro il Benevento. La partita di Coppa ha visto in campo coloro che in campionato avevano giocato poco. Un match interpretato non bene dalla squadra leccese, come ha avuto modo di dire anche il tecnico Bragli e come ha potuto vedere il resto della squadra dalla tribuna. Penso abbia detto tutto il mister, comunque dispiace perché ci tenevamo a passare il turno contro una squadra che abbiamo incontrato poco tempo fa e quindi essere sconfitti in casa nostra non è mai bello e mai nessun giocatore va per fare brutta figura, per perdere una partita. Quindi dispiace tantissimo perché ci tenevamo a passare il turno, tutto qui. Il mister era arrabbiato e infatti sarà lui a prendere le disposizioni giuste per comunque migliorare la situazione. Siamo una squadra e perdere, l'ho detto prima, non piace a nessuno però la partita di ieri ci deve insegnare che bisogna mettercela tutta e lottare contro chiunque perché ripeto il destino è dalla nostra parte, nel senso ce lo creiamo noi. Se noi siamo artefici del nostro destino perché abbiamo una forza così tale che se vogliamo possiamo raggiungere qualsiasi obiettivo. Se Braglia doveva accogliere spunti interessanti per il campionato ne sono arrivati sicuramente pochissimi e contro il Benevento potrebbe cambiare davvero poco o nulla rispetto all'ultima sfida giocata a Pagani. In difesa quasi certamente giocheranno dall'inizio Cosenze e Abruzzese con l'epore legittimo elastici fra difesa e attacco. Qualche dubbio c'è per Freddi sostituito da Braglia dopo appena 20 minuti per una scelta esclusivamente tecnica come ha precisato Braglia in sala stampa. Magari qualcuno ci può credere o no, comunque l'obiettivo è quello comune a tutti. Chi gioca dà il massimo anche per chi non gioca e chi non gioca sostiene chi è in campo. Ripeto, qualcuno non ci può anche credere perché anche io in passato ho giocato e magari chi non giocava era scontento e magari poteva augurare chissà che cosa. Invece in questo gruppo qua non è così perché sappiamo che quando c'è una squadra importante i risultati sono tutto e chi gioca in questo momento non ha importanza. Probabilmente stando ai numeri della squadra a Sanite, Lecce avrà di fronte una delle formazioni più in forma in questo momento. I giolo Rossi Campani si presentano con un biglietto da visita niente male grazie ai sei risultati utili consecutivi frutto di tre vittorie e tre pareggi. In sei incontri hanno subito soltanto tre gol. Il quadro è importante, i giocano a viso aperto, ti lasciano qualche spazio e poi ripeto, secondo me è difficile andare a vincere in qualsiasi campo perché non dobbiamo pensare, perché la pananese magari sia metà classifica, bassa classifica, sia semplice e andare a vincere lì perché comunque il campionato ci insegna che nessun risultato è scontato. Poi a Pagani per esempio stiamo parlando di una partita dove al primo tempo potevamo andare in vantaggio e alla fine prende un gol, non vuoi regolare ma ti tocca inseguire e quindi siamo contenti alla fine del pareggio perché comunque abbiamo dimostrato di essere una squadra compatta e che l'ha ammolato fino alla fine. Quindi sarà un bel confronto dove loro ci faranno giocare perché sono una squadra importante quindi lasceranno qualche spazio e non dobbiamo approfittare di quello. È una squadra importante come è importante la nostra, però noi giochiamo in casa nostra e ci sentiamo forti. Ci sentiamo forti e vogliamo fare bella figura perché ci saranno tante persone e quindi dobbiamo portare la parte nostra, il pubblico come sempre che ci darà una spinta alla grande per affrontare questa partita. L'ex difensore della Provercelli non teme cali di concentrazione tra la sosta di Natale e il calcio a mercato il cui vento soffia ormai forte. Non si può e non si deve abbassare e non si abbasserà perché ci teniamo tutti a passare un bel Natale prima quindi è tutto passato la domenica per passare poi delle buone feste con le famiglie per poi ricaricare le batterie e ripeto il ritorno è un campionato totalmente diverso dove comunque andremo a giocare in campi difficili come siamo andati adesso l'andata ma affronteremo squadre che ci terranno anche a fare il punticino e quindi non saranno più spregiudicate come lo sono state all'andata quindi da una parte il lato positivo e da un'altra il lato negativo dove comunque si chiuderanno e staranno a trovare le situazioni giuste per fare il risultato quindi ripeto, da una squadra esperta come la nostra non mi aspetto nessun caldo di tensione anzi siamo consapevoli che da noi passa un futuro importante e ci teniamo ripeto a chiudere bene questo prima delle feste